Legge elettorale ancora a larghe intese PDPD e le Lega l'hanno votata insieme Ma solo per non destabilizzare il paese Mica per fare un inciucio è palese I candidati saranno scelti dai partiti Non da cittadini solo perché in materia Sono più afferrati, si sono inchiodati Culo a mani e piedi alla poltrona per emulare L'estremo sacrificio di Gesù Azzurri, continua il sogno mondiale 1-0 di Candreva che è riuscito a segnare Ma c'è un altro trofeo che possiamo conquistare Quello sulla corruzione in Europa Siamo terzi in scia a Grecia e Bulgaria Ma con una bella regia di Verdini Sulla destra per Salvini, al centro per Boldrini Colpo di lingua in tasca, in sacca e scappa Vinciamo la partita senza IVA e viva Una mamma francese Condannata a due anni di prigione Mandava ogni mese il denaro al figlio maggiore A ruolato nell'Isis, oh signore Viceversa Un foreign fighters italiano tra le fila dell'Isis Mandava soldi alla madre ad Assisi Con la pensione a fine mese andava in crisi Dopo la sparatoria in Nevada conclusa Con 50 morti si ridiscute di armi in USA Trump ne limiterà l'acquisto e saranno leggi più dure del previsto Il massimo previsto 3 Kalashnikov, 8 Molotov, 2 bombe al fosforo 6 fucili a palettoni e una bomba atomica Ma solo se potenza inferiore a 6 megatoni La notizia bomba però è che il produttore americano Wildsense 2 Pro, attrici del calibro Di Angelina Jolie e Gwyneth Paltrow Anche di Asia Argento quel porco abusò Ne rimase così scossa che il loro rapporto orale continuò Per 5 anni in modo consensuale Non sapevo che darla ad un produttore Per fare carriera fosse violenza sessuale Eminem si è schierato apertamente contro Trump Gli ha pettinato la chioma con un freestyle Anche da noi la scena pulula di artisti Che si schiera tra telefonate con le Nike Donne Alfa in giarrettiera Pronto?